Consideriamo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine ay' più by' più cy uguale ad f con a, b, c ed f funzioni continue e a diverso da zero. Cosa intendiamo per soluzione di un'equazione differenziale? Per definizione, si dice soluzione dell'equazione differenziale nell'intervallo i una funzione y derivabile due volte in i, tale che, sostituendo nell'equazione differenziale y le sue derivate prime e seconde, si ottiene un'uguaglianza valida per ogni t in i, cioè si ottiene un'identità su i. Vediamo, con un esempio, come si verifica se una funzione data è soluzione di un'equazione differenziale. Consideriamo l'equazione differenziale y' meno y' meno 2y uguale a zero. Vogliamo verificare che la funzione y uguale a e alla 2t è soluzione. Cominciamo a osservare che i coefficienti dell'equazione e il termine noto sono definiti e continui in tutto r. Inoltre, la nostra candidata soluzione y è un'esponenziale e quindi è senz'altro derivabile due volte in tutto r. calcoliamo le derivate prima e seconda di y. Ora sostituiamo nell'equazione e otteniamo un'equazione in t, che è verificata per ogni valore reale di t. Dunque, la funzione y uguale a e alla 2t è soluzione dell'equazione differenziale di partenza. Invece, la funzione y di t uguale a t al quadrato non è soluzione. Infatti, se calcoliamo le sue derivate e sostituiamo nell'equazione differenziale, troviamo l'equazione t al quadrato più t meno 1 uguale a zero. Questa equazione non è verificata per ogni valore di t, ma per due soli valori. Dunque, la candidata non è soluzione dell'equazione differenziale. Ci chiediamo ora quante soluzioni può avere un'equazione differenziale lineare del secondo ordine. Partiamo dall'esempio più semplice possibile y secondo uguale a zero. Quali sono le funzioni con derivata seconda nulla e quindi le soluzioni di questa equazione? sono le funzioni lineari. Quindi tutte le soluzioni sono della forma y uguale c1 per t più c2 per qualsiasi valore delle costanti c1 e c2 in R. Abbiamo così scoperto che le soluzioni sono infinite. Vediamo un altro esempio, l'equazione del moto di un corpo in caduta libera in assenza di attrito dell'aria. Se y di t indica la quota del punto con l'asse orientato nel verso della caduta, l'equazione del moto è y secondo uguale a g. Integrando due volte si ottiene la legge oraria y di t che dipende da due costanti c1 e c2. Anche in questo caso, quindi, le soluzioni sono infinite e dipendono da due parametri arbitrari c1 e c2. Il motivo è evidente. Per due volte consecutive abbiamo calcolato una primitiva ed è naturale che nascano due costanti di integrazione. Per un'equazione meno semplice la risoluzione non consisterà semplicemente nel calcolare due volte una primitiva. tuttavia, la fisica suggerisce ancora che le soluzioni siano infinite e dipendono dalla scelta di due parametri arbitrari. Infatti, risolvere l'equazione del moto di un punto materiale significa trovare la legge oraria y di t con cui un corpo si muove. La legge oraria non è completamente determinata dalla conoscenza delle forze che agiscono sulla particella. Per conoscere lo stato della particella in tutti gli istanti futuri occorre anche conoscere il suo stato in un istante iniziale, cioè la sua posizione e la sua velocità in un certo istante t0. Quindi, ci aspettiamo che le soluzioni dipendano da due parametri arbitrari corrispondenti alla scelta dello stato iniziale del sistema. In definitiva, possiamo affermare che un'equazione differenziale ha, in generale, infinite soluzioni. Un'equazione differenziale lineare del secondo ordine, in particolare, ha infinite soluzioni dipendenti da due parametri arbitrari. Si dice integrale generale dell'equazione differenziale l'insieme di tutte le sue soluzioni o anche, più concretamente, la formula che assegna la totalità delle soluzioni in dipendenza da due parametri. Una volta che all'equazione differenziale si aggiungono due condizioni iniziali, che assegnano il valore di y e y' a un certo istante t0, viene determinata un'unica soluzione. La coppia, equazione differenziale più condizioni iniziali, si chiama problema di Cauchy. Il risultato che garantisce l'esistenza di un'unica soluzione per questo tipo di problema si chiama teorema di Cauchy. Se a, b, c ed f sono funzioni continue in un intervallo i e a è diversa da 0 in i, allora il problema di Cauchy con condizioni iniziali assegnate in un istante t0 dell'intervallo i ha una e una sola soluzione definita in tutto l'intervallo. Risolvere il problema di Cauchy ha un significato fisico ben preciso. Significa determinare la legge oraria di una certa grandezza fisica y , ad esempio la posizione di un punto materiale in movimento, sapendo che il sistema fisico è governato da leggi descritte dall'equazione differenziale e che in un certo istante iniziale t0 sono note la posizione e la velocità. La procedura con cui si risolve un problema di Cauchy consiste nel determinare l'integrale generale dell'equazione, cioè una formula esplicita che contiene due costanti arbitrarie, imporre che l'integrale generale soddisfi le condizioni iniziali, determinando così il valore delle due costanti, sostituire questi valori nella formula dell'integrale generale. Vediamo un esempio. Risolviamo il problema di Cauchy. con le condizioni iniziali y di 0 uguale a 1 e y' di 0 uguale a meno 1. Supponiamo di conoscere l'integrale generale, cioè l'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione differenziale y' meno 3y' più 2y uguale t. E scriviamolo. Quindi y di t uguale c1e alla t più c2e alla 2t più t mezzi più 3 quarti. Ovviamente l'integrale generale dipende da due costanti, da due parametri, c1 e c2 reali. Che cosa significa risolvere il problema di Cauchy? Significa individuare per quali costanti c1 e c2 la soluzione y di t soddisfa le condizioni iniziali. per farlo imponiamo che y di 0 sia uguale a 1. Quindi sostituiamo al posto di t 0 e otteniamo c1e alla 0 più c2e alla 2 per 0 più 0 fratto 2 più 3 quarti. e imponiamo quindi il fatto che questo valore debba fare 1. Quindi uguale 1. Allo stesso modo dobbiamo imporre la condizione y' uguale meno 1. Per farlo dobbiamo prima calcolare la derivata prima. quindi calcoliamo la derivata primo y' uguale c1e alla t più 2 c2e alla 2t più 1 mezzo e sostituiamo all'interno della derivata t uguale a 0. y' uguale c1e alla 0 più 2 c2e alla 2 per 0 più 1 mezzo che dà come risultato c1 per 1 più 2 c2 più 1 mezzo. Imponiamo che questa derivata faccia meno 1 e in questo modo otteniamo un sistema di due equazioni e due incognite da risolvere. quindi risolvete il sistema e otteniamo c1 uguale 2 e c2 uguale meno 7 quarti. Queste sono le costanti c1 e c2 che sostituite all'interno dell'integrale generale soddisfano il problema di Cauchy. quindi scriviamo la soluzione del problema di Cauchy. y di t uguale c1 che vale 2 e alla t più c2e alla 2t quindi meno 7 quarti e alla 2t più t mezzi più 3 quarti. Questa è la soluzione del problema di Cauchy. Sottolineo che esiste ed è una e una sola. Un'altra. Grazie a tutti.